Dicembre 1941. È una domenica. Il mondo, anche se non tutto, è in guerra. Si combatte in Europa, nel deserto dell'Africa occidentale. A Pearl Harbor, maggiore base americana del Pacifico, c'è il clima sonnolento della domenica. Gli ufficiali sono nelle loro case. Chi è preposto alla sorveglianza se la prende gomma. Eppure, a qualche centinaio di chilometri, forze navali giapponesi, salpate dalle isole Curili, sono pronte ad attaccare. L'ordine arriva all'alba. La stessa parola ripetuta tre volte. Tora, Tora, Tora. E i destini del mondo, da quel momento in poi, prenderanno un'altra piega. Diverse ondate di caccia e di bombardieri giapponesi annientano la flotta americana del Pacifico. Era quello che Roosevelt attendeva per portare un'America recalcitrante in un conflitto esploso ancora una volta in Europa. La mobilitazione è totale e immediata. L'America è dunque in guerra. Il Giappone sciama nel Pacifico e arriva ad ipotizzare persino l'invasione dell'Australia. La riconquista delle mille isole sarà lunga, difficile e richiederà uno spaventoso tributo di vite. La storia di quei giorni è nota. È forse meno noto che l'Unione Sovietica di Stalin dichiarò guerra al Giappone soltanto l'8 agosto 1945, quando i funghi di Hiroshima e Nagasaki avevano già bruciato uomini, donne e bambini e le ambizioni imperiali di Hirohito e del suo stato maggiore. Il 9 agosto le forze sovietiche impegnano i giapponesi attestati nella Manciuria, nella Corea del Nord, nelle isole Kurili e nella penisola della Kamchatka. Mentre le forze sovietiche avanzavano incontrai una brigata che stava liberando quest'isola, questa regione insomma. Raccontavano che i giapponesi li aspettavano stando bene allineati, deposte le armi, pronti alla resa e alla prisionia. Per evitare di combattere erano pronti a lasciare tutto e tornare a casa. Ero un soldato semplice, non mi interessava molto all'ora di queste questioni. Il 25 agosto 1945 anche su quella parte di fronte scende la pace. Il 2 settembre, a bordo della corazzata americana Missouri, ancorata nella baia di Tokyo, il Giappone firma la resa.